Con il mister del Campobasso Pergolizzi, quanto deve fare a me a culpa la sua squadra? Non credo a me a culpa, le partite si vincono, si pereggiano e si perdono, il calcio è bello perché non c'ha delle certezze. È normale che noi spesso succede che andiamo in vantaggio e dobbiamo un po' crescere sotto questo aspetto qua. In che senso? Cercare di provare a rifare anche il secondo e non subire questo atteggiamento che ogni tanto ci viene a mancare, che è di autostima o di paura di portare a casa il risultato. Questi ragazzi devono capire che i campionati non si vincono oggi per domani, si vincono col tempo, col lavoro e ci vuole pazienza. Quindi guardare la classifica adesso non serve a niente, adesso bisogna vedere ciò che va e ciò che non va. E noi siamo qui per questo e per cercare di rilevare quello che non va e mettere qualcosa in più di positivo. Ecco, ma cosa non va in questo Campobasso per fare insomma il salto di qualità tanto auspicato da piazza e tifoseria? Ma sarei un mago a dirti adesso cosa è che manca, che non ho la bacchetta magica. Sicuramente manca un po' di condizioni in più, un po' di fiducia in più, ma noi io credo che in questo momento stiamo acquistando uno spirito di appartenenza importante. E ho visto la mia squadra che è più giù per non aver vinto ma non per l'atteggiamento e cose varie. Quindi quando una squadra ha quell'atteggiamento e ci tiene a questo per un allenatore è più facile lavorare. Per concludere, questo Campobasso ovviamente è una delle candidate alla vittoria finale. Ma sì, è candidata come lo sono 6, 7, 8 squadre perché siamo là, a parte adesso la San Benettese che ha quei 4-5 punti di stacco, però tutte siamo candidati a fare un ottimo campionato. Io non direi adesso il Campobasso. Non attiriamoci delle cose che in questo momento sinceramente noi dobbiamo meritarci e soprattutto dobbiamo lavorare. Quindi lasciamo il tempo che trova e noi dobbiamo dimostrarlo sul campo. Ripeto, posso dire che questo sarà un campionato difficile. Chi vincerà avrà vinto veramente meritando e avendo fatto un campionato sicuramente d'alto livello.